Mister, adesso non ci si può più nascondere e si può dire tranquillamente che quella di sabato sera è una partita fondamentale sulla strada del Teramo? Nascondere? Noi un obiettivo importante l'abbiamo raggiunto, la salvezza, che era l'obiettivo primario di inizio anno, dove eravamo partiti con tante paure, tante incognite. Adesso è chiaro che ci troviamo in una posizione di classifica veramente importante, è vero, sabato incontriamo una squadra, secondo me, forse la migliore, una squadra che gioca molto molto bene, ha grande qualità nel palleggio, ha grandi giocatori, ha uno stadio importante, un pubblico importante, quindi per noi sarà veramente un bel test. Sì, però il Teramo è primo in classifica e ha due punti in più dell'Ascoli e ha qualche punto in più della Reggiana, quindi? Sì, 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 infatti siamo andati oltre le rose aspettative, noi abbiamo diverse possibilità di far bene anche lì a Reggio, perché la squadra sta bene, è motivata, sa quello che deve fare, quindi la stiamo preparando nel miglior modo possibile, cercando di arginare le loro qualità e poi se riusciamo a fare le cose che sappiamo fare, secondo me ci possiamo togliere belle soddisfazioni anche sabato. Non perdere a Reggio significherebbe? No, significherebbe che la squadra dimostra ancora una volta di avere le qualità giuste per questo campionato, però è ancora lungo per tutti i verdetti, quindi è una partita importante, prendiamola per quella che è, la dobbiamo provare nel miglior modo possibile, dobbiamo mostrare tanta umiltà, tanta aggressività, dobbiamo andare oltre i nostri limiti e dobbiamo chiedere tantissimo da noi stessi perché è una partita importante. Lei ha sempre detto che in questa fase della stagione si decidono i campionati, in questa fase della stagione voi avete ripreso sei punti all'Ascoli, questo significa qualcosa? Beh certo, in questo momento qua ci troviamo primi in classifica, due punti di vantaggio, quindi è un dato molto molto importante, però il periodo importante ancora non è finito perché si inizia da questo periodo fino ad arrivare alla fine, quindi adesso sono importanti le prossime partite.